buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 16 ottobre 2023 abbiamo i giornali pronti mattino magari per quanto riguarda il lunedì ci sono edizioni un po riviste rispetto ai giorni scorsi ma noi abbiamo tante notizie ugualmente da proporvi e allora iniziamo subito a partire dall'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia santa margherita maria alacoc visse nel diciassettesimo secolo in francia fedele al sacro cuore da cui deriva la grande promessa tutti coloro che si comunicheranno nei primi venerdì dei nove mesi consecutivi non morranno senza la grazia di dio questa è stata la rivoluzione la rivelazione che santa margherita ha fatto a tutti i fedeli e questa è una pratica che si potrà anche al giorno d'oggi quindi la comunione per nove venerdì consecutivi il primo venerdì del mese insomma è segno di salvezza vediamo le previsioni del tempo ecco il tempo sta cambiando sta cambiando rispetto il lungo periodo di alte pressioni che abbiamo vissuto nei giorni scorsi ora vediamo che il cielo diventa nuvoloso infatti la grafica ci afferma che i cieli sono in prevalenza parzialmente nuvolosi su tutta la regione con i numeri in parziale aumento in serata ci saranno dunque addensamenti nel pomeriggio sera i venti saranno al mattino tesi al pomeriggio moderati il mare è mosso la temperatura si aggira tra i venti per quanto riguarda la massima e i 16 gradi per quanto riguarda la minima e vediamo che il sole sorgerà tra poco alle 7 e 26 e tramonterà alle 18 e 27 questo per quanto riguarda le previsioni del tempo e sotto una temperatura un pochino più autunnale possiamo cominciare a leggere i giornali partiamo dal resto del carlino il sunto della prima pagina e vediamo il sunto delle notizie in tutte le province della regione marche vediamo pesaro un fatto di sangue è accaduto a gabice mare un imbianchino accoltellato arrestati due fratelli giallo in piazza è venuto proprio in piazza centrale a gabice mare davanti al municipio si tratta di tre persone originarie della campania due fratelli hanno accoltellato un loro amico un uomo di 51 anni che ora è in gravi condizioni all'ospedale sembra che la lite sia legata sia originata da motivi di lavoro poi insomma vedremo altre notizie ecco come abbiamo salvato un ragazzo nella grotta un ragazzo imprudente che si era calato in una grotta a monte nerone è stato salvato per fortuna dalla presenza fortuita dobbiamo dire degli speleologi di urbino a sant'angelo invado grande festa per il tartufo lo chef barbieri è il mattatore a lui un significativo riconoscimento per il lavoro fatto in per la valorizzazione della enogastronomia questo per quanto riguarda la provincia di pesaro e purtroppo nella provincia di ancona abbiamo un nuovo femminicidio una notizia che è rimbalzata anche su tutti i mass media nazionali su tutti i tg nazionali ebbene il delitto di cerreto desi e una donna è stata è stata uccisa coltellate dal marito dal quale si stava separando lo aveva denunciato l'uomo aveva anche il braccialetto elettronico ma questa volta il dispositivo non ha funzionato ha funzionato anzi molto in ritardo quando l'uomo era già penetrato nell'abitazione della donna di cui aveva le chiavi e appunto stava perpetrando la sua idea la sua idea assassina e quindi tutto è arrivato in ritardo la donna è deceduta il braccialetto elettronico ha funzionato quando lui era in casa la piaga dei femminicidi e poi parliamo di sanità perché c'è un altro medico che ha vinto il ricorso perché insomma era stato punito in quanto non si era vaccinato il ricorso gli ha dato ragione a macerata un incidente stradale si schianta contro un muro senza frenare muore a 78 anni a corridonia una donna si ustiona in un incidente domestico mentre stava cucinando il pranzo e poi ci abbiamo dissidi al comune per quanto riguarda il museo di storia naturale scoppia il caso lascia il presidente federico landi e poi vediamo ad ascoli e affermo qui giurano 29 nuovi medici fa festa polemiche ora basta con i tagli insomma 29 29 nuovi medici sono veramente una risorsa per tutto l'apparato della sanità mancano i medici e mancano soprattutto gli operatori di pronto soccorso e certamente 9 29 nuovi medici sono una risorsa importante ma anche qui non mancano maltrattamenti in famiglia tre codici rossi e sono stati rilevati durante una operazione dei carabinieri a pennile di sotto una località rebus case popolari quasi pronti 52 alloggi una task force domenicale questo per quanto riguarda il sunto delle province marchigiane ora diamo un'occhiata all'interno e vediamo le notizie della provincia di pesaro e urbino eccole qua partiamo subito dal tentato omicidio di gabice mare tentato omicidio in piazza due fratelli accoltellano un loro amico in bianchino sembra appunto che le cause di questa lite di siano da attribuirsi a problemi di lavoro è accaduto l'altra notte a lune 30 appunto a gabice davanti al municipio perforati milza e glutei rotti il naso e le costale il malcapitato a 50 anni ed ora è ancora vivo e però è in prognosi riservata all'ospedale si chiama pasquale marzocchi a 52 anni sposato due figli originario di napoli residente a gabice gli aggressori due fratelli di gabice mare di 40 e di 34 anni sono stati rintracciati poco dopo al pronto soccorso di cattolica perché anche loro si erano feriti e sono stati portati in caserma arrestati con l'accusa di omicidio di tentato omicidio quindi un'accusa molto molto grave parallela in relativa agli atti che hanno compiuto arrestato un 33enne che guidava positivo all'alcol con la cocaina è stato arrestato all'altezza di fano si tratta di un uomo che aveva troppo alcol in corpo lo diceva appunto l'alcol test a cui è stato sottoposto quando è stato firmato dagli agenti della polizia stradale lo avevano fermato per un controllo gli hanno detto di aprire l'auto per una perquisizione ma l'uomo subito ha capito che la cosa stava andando molto molto male perché all'interno dell'auto c'erano delle dosi di cocaina poi l'uomo è stato ancora perquisito e sono state perquisite anche i locali perquisiti anche i locali della sua abitazione dove sono risultate sono venute fuori altre dosi di cocaina si tratta di un 33enne di colli al metauro che è stato arrestato in fragranza di reato a pesaro importante è molto partecipata la processione del voto ovvero la processione di santa maria delle grazie questo santuario francescano che si trova in via san francesco che è molto caro ai pesaresi moltissimi fedeli hanno seguito ieri la tradizionale immagine della madonna portata in processione ovviamente dall'arcivescovo salvucci per le strade del centro storico via branca fino al trebbio insomma le vie centrali via san francesco corso 11 settembre via mazza via passeri branca e piazza del popolo questo è un po' l'itinerario che ha fatto la processione sono colpito dalla devozione e dal profondo attaccamento della città nei confronti della madonna delle grazie per la seconda volta ha detto salvucci mi trovo a vivere insieme a voi fedeli la tradizione la tradizionale festa del voto rinnovando la gratitudine verso la madonna per la protezione ricevuta dai pesaresi nel pericoloso contagio del colera del 1855 veramente una strage allora per una malattia che si era diffusa alquanto ma che grazie alle alla devozione della madonna i pesaresi affermano che appunto la cosa si sia fermata ed ora vediamo il salvataggio che è stato compiuto per un un ragazzo che si era calato in una delle grotte più profonde delle marche che si trova appunto a monte nerone in grotta con jeans e kiwei soltanto non aveva quindi l'attrezzatura necessaria e poi non riusciva a risalire così lo abbiamo salvato parla enrico sacchi che del gruppo speleologico di urbino che insieme alla squadra ha tirato fuori un 22enne dall'altro delle tassare inevitabile ovviamente la romanzina non si va insomma in una grotta così difficile senza la necessaria attrezzatura senza la necessaria esperienza così si mette a rischio la propria vita ma anche quella di coloro che poi sono incaricati al salvamento aveva detto all'amico se vedete che non torno date l'allarme l'unica precauzione che ha assunto questo ragazzo poi è sceso nella grotta più profonda delle marche la grotta delle tassare a monte nerone piobbico profonda addirittura 450 metri per fortuna per una coincidenza veramente portentosa così possiamo dire nella grotta davanti all'imboccatura della grotta c'era anche il gruppo speleologico il quale ricevuto l'allarme non ci ha pensato un minuto a calarsi nel baratro appunto e salvare questo ragazzo e allora vediamo anche quello che accade a sant'angelo invado lo abbiamo preannunciato per quanto riguarda il tartufo lo chef barbieri mattatore siete baciati dalla fortuna ha detto voi che avete questo territorio così prolifico di un prodotto che è veramente un diciamo una ricchezza eccezionale vale tant'oro quanto pesa avete il tartufo bianco alla fiera di sant'angelo invado premiato il nuoto cocco nonché conduttore televisivo la città invasa intanto da 3500 motociclisti per il tradizionale motoraduno annuale e motociclisti sanno benissimo dove andare nelle località dove l'enogastronomia è sinonimo di eccellenza lo chef bruno barbieri è stato premiato ieri a sant'angelo invado con il tartufo d'oro per quanto ha fatto per la promozione del made in italy all'estero in quanto ha aperto un ristorante negli stati uniti da dove racconta il gusto e la tradizione italiana polemiche sportive il presidente del fanocalcio russo trascina a processo l'avvocato giovanni orciani per diffamazione giovanni orciani allora direttore tecnico della squadra avrebbe detto frasi incriminate e al in merito al al presidente dell'alma avrebbe detto insomma che avevano ragione coloro che avevano definito il presidente io non vuoi voglio ripetere l'espressione comunque un 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 esponente del sud con un'espressione come quella che insomma si definiscono gli esponenti del sud ecco questo voglio dire però voi lo capite tranquillamente però giovanni orciani ha reagito pronunciando una presentando una contro querela quindi la situazione deve essere deve essere risolta davanti al giudice l'ex componente del comitato granata contro querela per calunnia e abbiamo due due azioni giudiziarie che si incrociano asili nido a frontone nuovi spazi felici bambini di due comuni e sono quelli di serra santabondio e di frontone ebbene il sindaco ha detto non c'è futuro senza scuola non c'è alcun futuro senza bambini soprattutto per l'entroterra queste strutture sono molto molto preziose per così far sì che i bambini crescano in modo virtuoso e in modo intelligente una donna si perde sul nerone salva due incidenti nella valcesano quest'articolo sono riassunti diversi e diverse notizie di cronaca uno schianto sulla 4 e 24 feriti in maniera non grave dunque allarme ieri per una donna di 52 anni che si è persa camminando sui sentieri del monte nerone è scattato subito l'allarme i vigili del fuoco di cai sono intervenuti e l'hanno trovata dopo un paio di ore la donna era in buone condizioni per la cronaca si sono verificati intanto ieri mattina due incidenti lungo la pergolese la 4 e 24 il primo al mattino in località san filippo al fiume dove due auto si sono tamponate con il coinvolgimento di un'altra autovettura due i feriti ma sembra che non abbiano gravi conseguenze e poi abbiamo un altro incidente che si è verificato un paio di ore dopo vicino a marotta dove si è verificato uno scontro tra quattro auto con blocco della pergolese due i feriti ma anche questi non in gravi condizioni questo per quanto riguarda il resto del carlino che ora chiudiamo per aprire il corriere adriatico vediamo l'apertura nella pagina di fano ecco l'ex manfrini trasferito al comune accolto il progetto per la marineria mercoledì prossimo nuova seduta del consiglio comunale di fano all'ordine del giorno tra gli altri punti anche l'acquisizione del ex asilo manfrini questo grande stabile in via nazario sauro nei pressi del porto di fano che è in situazioni veramente precarie da tanti tanti anni ed è incapsulato da questa armatura di tubi che dovrebbero così salvaguardarne la stabilità ma è versa così da tanto tanto tempo finalmente sembra che questa questione si risolva di proprietà del demanio ha così passato una lunga traversia prima di essere ceduto al comune così come era stato richiesto ebbene finalmente la soluzione si è trovata con un secondo progetto il primo prevedeva la trasformazione di questo stabile in casa popolare ma la cosa non è piaciuta al demanio anche perché nel frattempo erano intervenute delle nuove regole amministrative e quindi la cosa si è bloccata e si è bloccata per diverso tempo allora il comune cosa ha fatto? Ha studiato un nuovo progetto e invece di farci delle case popolari ha deciso di farci il museo della marineria questo al piano terra tre stanze con i vari annessi mentre al piano superiore un auditorium in cui potranno riunirsi e tante persone fare degli incontri parlare della marineria e di tanto tanto altro. Ebbene il progetto così congeniato ha ricevuto il benestare dell'agenzia del demanio il quale ha accolto la proposta di passare gratuitamente la proprietà del palazzo al comune di Fano. Ora la cosa verrà approvata anche dal consiglio comunale ci sono due milioni disponibili per procedere alla ristrutturazione del tutto e quindi speriamo che non ci siano problemi in consiglio comunale se questi appunto non ci sono la cosa andrà avanti e anche questo stabile che poi è inserito in tutto un progetto che coinvolge l'ambiente del porto dalla passeggiata romantica al waterfront al borgo marinaro insomma ci sono diverse soluzioni che stanno rivoluzionando un po' anzi valorizzando dobbiamo dire così l'ambiente del porto. Un'iniziativa benemerita di carattere sociale compiuta dal Rotaract di Fano sono i giovani appunto del Rotary Club che sostengono la mensa di San Paterniano eccoli qui i giovani. È stato raccolto un contributo del club della Val Metauro durante una serata conviviale che i soldi verranno devoluti appunto alla mensa di San Paterniano. La cena era una cena con delitto quindi una cena con intrattenimento è stata organizzata benedì scorso alla trattoria da farina il cui ricavato appunto verrà dato in beneficenza. Parliamo ora della Zengarini questo impianto sportivo nella pista nella zona sportiva della Trave. Zengarini mezzo milione per completare la galleria. Oggi al via il primo cantiere ma il Comune cerca altri finanziamenti statali. In realtà sono già disponibili due milioni e mezzo ma i soldi non bastano. Occorrono altri 559 mila euro per diciamo così predisporre tutto quanto necessario per completare il restauro di questo bellissimo impianto sportivo. E poi parliamo anche del fuori brodetto perché oggi è la seconda settimana di serate speciali per la promozione di questo piatto attuata dalla Confesercenti. Si parte da il Giardino dei Sapori in Viare Adriatico a Fano a due passi dal centro storico. Qui verranno serviti il brodetto secondo la tradizione con poi altre elaborazioni del ristorante. E allora passiamo alle notizie di cronaca che ci provengono dalla Val Cesano. Abbiamo visto già un anticipo sul Corriere sul resto del Carlino. Schianto e pericolosa carambola coinvolte quattro auto soccorsi, tre feriti. È avvenuto abbiamo visto nella Pergolese causato da un veicolo fuori controllo. Il conducente risulta miracolato. Comunque c'è stata molta tensione in strada. Lui è dato finire contro un'altra auto. Poi entrambi hanno così rovinato la carrozzeria di altre due auto in sosta. A San Lorenzo in campo il cimitero alvia il cantiere per altri 150 loculi. Un programma di lavori per sette mesi senza però ricorrere al mutuo. E vediamo la pagina di Senigallia. Un'eccellenza del Made in Italy. A Senigallia si insiste sulla enogastronomia perché questo progetto di valorizzazione del buon cibo sta caratterizzando tutta l'attività di questa località da diversi giorni. L'ennesimo premio per cedroni. Il riconoscimento internazionale Manibus. E' questo che è stato attribuito a questo chef. E Senigallia nel weekend si è scoperta città gourmet. Vogliamo fare diventare Senigallia capitale italiana del gusto. Parola dell'assessore Alan Canestrari che anticipa a novembre un evento addirittura sul cioccolato. Un altro evento di carattere gastronomico. Dopo quello che si sta tenendo in questi giorni. Quando lo chef pluristellato Moreno Cedroni ha ricevuto sabato pomeriggio a Lecce il premio internazionale Manibus per il Made in Italy. E di questo abbiamo già parlato. Vediamo ora le notizie di Pesaro. Si parla di ristrutturazione di grandi palazzi. Eccolo qua. A partire da Palazzo Mazzolari Mosca. Donato dalla Contessa Mosca alla comunità pesarese. Chiuso il puzzle dei tesori. Indirittura ad arrivo il progetto esecutivo. Cantiere in primavera. Tutti i contenitori hanno un futuro. Chiuso il puzzle dei tesori rappresentato da queste grandi dimore di carattere nobiliare. Che ora costituiscono veramente una preziosa risorsa per tutta la città di Pesaro. Accordo per la Prefettura. Aprono nuove sale espositive nel Palazzo Ducale di Pesaro. E questo è veramente bello. Perché questo palazzo è stato chiuso alle visite per tanto tempo. E si sta scoprendo e aprendo sempre più al pubblico. Vediamo anche l'incidente di Colombarone. Che ha visto dimezzata la pena a Marco Orazietti. Non sembra che sia stato lui a tirare il freno a mano. E quindi a provocare l'incidente. L'auto era stata spostata. Quindi la condanna viene ridotta a un anno e otto mesi. Siamo in addirittura d'arrivo. Vediamo un'ultima notizia per quanto riguarda Urbino. Il Vescovo ci dà una nuova forza. Adesso basta con i maxi impianti. Parla così il presidente di Diversamente. La società che ha organizzato la grande camminata da Montefabri a Ricelci. Per impedire la realizzazione della grande discarica. E credo che ormai siamo arrivati a buon punto. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie. 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 Grazie.